Vi ricordate? Noi abbiamo vinto a Genova, Genoa-Torino 1-2 e poi c'è stato Torino-Crotone 0-0. Bellissima parete, devo dire. Poi abbiamo vinto a Parma, Parma-Torino 0-3 e poi c'è stato Torino-Verona 1-1. Bellissimo. Poi abbiamo vinto a Cagliari, Cagliari-Torino 0-1 e c'è stato Crotone-Torino 4-2. Io vi prego, giocatori del Toro, Nicola, vi supplico, fate in modo che non sia il solito coitus interrotto, come cazzo si dice, il solito coitus interrotto. Fateci veramente, per favore, nel vero senso della parola, gioire. Andiamo a Genova contro la Sampdoria. E detto molto terra-terra, vinciamo. Per favore, non facciamo ogni volta un passo buono ogni 50 per poi farne uno pessimo. E non solo uno pessimo, veramente, ve lo chiedo per favore. Il link, tutti i miei format, ci vediamo per il video post Sampdoria-Torino di domenica sera. Ciao ragazzi, forza Toro ovviamente. Grazie a tutti. Ciao ragazzi.